I giochi sui collegi uninominali sono chiusi nel centrodestra, almeno nella Lega, dove il partito di Salvini schiererà per la coalizione di centrodestra il consigliere regionale Bellomo nel collegio Camerale di Bari, il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso nel collegio di Altamura e il senatore Roberto Marti nel collegio senatoriale di Lecce. Per il primo la sfida, almeno fino ad ora, si presenta contro la scienziata Luisa Torzi, candidata del centro-sinistra e fortemente sostenuta dal sindaco di Bari, Antonio De Caro. A sfidare Sasso ad Altamura il centro-sinistra schiera Silvia Convertini. Contro Marti il PD, in quota ad articolo 1 e sponsorizzato dal ministro Speranza, manda in pista l'ex assessore alla sanità Pierluigi Lopalco. A foggia il centro-sinistra schiera Valentina Lucianetti, figlia dell'ex procuratore capo di Lucera. A brindisi l'attuale vice sindaca Tiziana Brigante. Sfida nell'uninominale camerale di Galatina anche per l'attuale assessora all'ambiente regionale, Anna Grazia Maraschio, sostenuta da sinistra italiana. Le liste devono essere depositate tra domenica e lunedì e a sparigliare le carte potrebbe essere il terzo polo di Carlo Calenda Matteo Renzi, cui si è ormai avvicinato il gruppo dell'ex senatore e presidente dell'ARPAR Massimo Cassano. Per lui potrebbe essere pronto un secondo posto nel listino proporzionale di Bari dopo la Carfagna. Una galassia nuova che con il gruppo dei popolari del consigliere regionale Tarantino Massimiliano Stellato e l'avvicinamento di Gianni Stea Clemente Mastella, sembrerà forzare un altro progetto che non è quello di sostenere il PD. In questo quadro si inserisce anche la posizione del Movimento La Puglia in più del senatore Dario Stefano, che qualche giorno fa ha lasciato il partito sbattendo la porta.